bello a tutti ragazzi ben ritrovato al vostro simex fruit 08 ragazzi mi avete detto di non fare gioco delle armi purtroppo ci sono rimasto male però il like me l'avete lasciati ora mi ricordo neanche quanti però pochi però speriamo di raggiungere almeno 30 anche in questo video qui ne voglio 30 mappa splash ma avete detto decimension squadre v'ho detto nello scorso video che ho fatto veterano perché veterano muoiono subito quindi andiamo subito a farci questa partita ci vediamo subito un partita bella aspettate ci vediamo un partita un cazzo mi si è baggato tutto ragazzi non mi fa nulla raga non mi fa nulla non mi fa giocic perché gira l'umino da solo raga che zetto le sto muove io raga la donna piabe per culo è una cosa fighissima ragazzi spero che splash vi piaccia perché a me è una delle mie mappe preferite anzi forse sarà anche la mia preferita in assoluto oppure qual è la mia preferita scrivetemi nei commenti qual è il vostro specialista e mappa preferita allora la mia mappa preferita può essere splash o stronghold perché sono indeciso perché mi piace un casino stronghold non mentiamo la nostra splash squadra siamo di ok della black ops perché io sempre black ops voglio essere dato che con i botto la squadra si può cambiare tutti i bersagli ci abbiamo ragazzi con l'xr2 noi con l'xr2 ha un'arma veramente spettacolare merino o belleccio oh 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 che faranno fa questi eh zio mi ha incontrato il gangster